Con Michela Calculli che ci parla di soldi digitali, speriamo tantissimi. Questo è il microfono e questo. Allora, visto che Jacopo adesso vi ha insegnato ancora un po' come fare i soldi, impariamo come gestirli usando soltanto questo. Solo questo che tanto abbiamo tutti in tasca. Mi presento, ci vuole un po' di tempo. Scusate, avevo impugnato il telecomando al contrario. Mi chiamo Michela Calculli e di mestiere principalmente scrivo, racconto, riscrivo, riracconto tantissime volte di economia, finanza e fisco. Però ogni tanto parlo anche di Nutella, di Super Santos. Se volete, andando su Google chiedete Michela Calculli e Nutella e scoprirete se preferisco la crema pandistelle o la Nutella. Oppure, se avete 40 anni come me, potete farvi un bel pianto con il mio post su Super Santos. Ok, però oggi parliamo di soldi, che è la mia materia. Parliamo di soldi e parliamo di soldi soprattutto quando i soldi sembrano pochi, quando abbiamo l'impressione di non poter dedicare i soldi che abbiamo ai nostri progetti e alla nostra attività e scopriamo che in realtà i soldi, come si dice dalle mie parti in Puglia, si fanno uscire anche quando non ci sono. Basta essere consapevoli e organizzati. E in questo le fintech di cui parleremo oggi ci vengono in aiuto. Però, prima di iniziare a parlare di soldi e per capire che i soldi si fanno uscire, vi voglio raccontare una storia. Immaginate la stazione centrale di Milano, ma non come adesso, come poteva essere negli anni 60, quando arrivavano treni carichi di terroni come me, famiglie con le valigie con lo spago, papà, mamma e una quintalata di figli, dove l'organizzazione familiare era il papà che lavorava e portava i soldi a casa, la mamma che non lo sapeva ma era il CFO della famiglia, cioè il Chief Financial Officer, mia nonna era un CFO che, levatevi, aveva sette figli, e i figli. E arrivava uno stipendio, se andava bene. Allora, per quadrare i conti e arrivare alla fine del mese, quello stipendio non andava assolutamente sprecato, e quindi la prima cosa che si faceva quando arrivava era dividere i soldi in piccoli mucchietti o in barattoli, che non si dovevano toccare per altre spese, che non fossero quella appiccicata al barattolo. Con le fintech torniamo ai barattoli, e anche con la nostra attività da freelance possiamo tornare ai barattoli, e non sprecare niente di quello che guadagniamo. Perché parlo di fintech? Sono figlia di un funzionario di banca in pensione e le banche mi perseguitano da sempre, anche se giurai a me stessa che non avrei mai lavorato in banca, ma continuo a lavorare anche per le banche nel mio lavoro. Mi appassiona la tecnologia perché il mio lavoro è iniziato nella tecnologia, era un analista di mercato nell'ICT, e quindi queste fintech me le guardo e me le riguardo con molto interesse. In più è un tema caldissimo, in continuo divenire, per cui quello che vi racconterò oggi cambia, cambierà le app che vi racconterò oggi. Stanno cambiando anche mentre parliamo adesso. Due giorni fa c'è stato un finanziamento da 7 milioni di euro di banca intesa a una fintech che consente di pagare in contanti gli ordini online usando il sistema delle macchinette distributrici. Quindi io con le macchinette distributrici infilo i miei contanti e ho pagato il mio acquisto online. Quindi il fintech è un continuo, secondo me, travaso di antico e nuovo messo insieme per quello che sono partita dai barattoli. Però prima di parlare di tutto questo è successa una cosa mentre io proponevo lo speech, o meglio, sapevo che stava per succedere, ma è successa nel frattempo. Il 14 settembre scorso è entrata in vigore la PS2, che non è un videogioco. La PS2 è una direttiva europea che apre l'ultimo miglio delle banche, l'ultimo miglio dei nostri conti correnti. Cosa significa? Significa che se autorizzati da noi, altri operatori potranno entrare sui nostri conti e rilevare dei dati, semplicemente, quindi ci sono degli operatori che semplicemente raccolgono i dati e come vedremo li raccolgono bene e li espongono in maniera più chiara in modo tale che noi abbiamo un'idea più chiara della nostra situazione perché magari abbiamo quattro soldi e dieci conti. Succede. Poi ci sono degli operatori che trasformano, ve la faccio semplicissima, poi chiedete sempre a Google Michela Calculli PSD2 e vi fate tutti gli approfondimenti del caso. Comunque, ci sono degli operatori che trasformano il nostro conto corrente in un sistema diretto di pagamento, quindi banalmente compriamo su Amazon e potremo pagare direttamente da conto corrente senza passare per la carta. Il terzo tipo di operatore nuovo che si affaccia è un operatore che produce, distribuisce delle carte che sono legate alla persona e non più al conto. Quindi poi quella persona collega i suoi conti, quelli che vuole, alla carta e da lì la prepagata si trasforma in una carta di pagamento. Ecco, la situazione è fluida. Ecco, questo vorrei fosse chiaro. Comunque, tutto quello che racconterò oggi sarà perfettibile e convergente. Ci sono tante app che fanno cose diverse e piano piano si arricchiranno. Ognuna di queste app si arricchirà di altre cose per mettere insieme, perché il finance è un mondo fatto di conti, investimenti, indebitamento, carte, cioè una serie di fattori. Il cruscotto finanziario, quindi il primo operatore di cui ho parlato, è un operatore che ci consente di avere in un'unica schermata o comunque con una visione semplificata e immediata la nostra situazione, perché la nostra situazione finanziaria si può comporre e se siamo freelance o imprenditori si compone sicuramente di saldi di conti correnti, ci vuole il conto corrente dedicato all'attività, quindi avremo magari un conto, almeno due conti, uno personale e uno professionale, banalmente. le carte, i finanziamenti in corso, perché gestire i soldi significa anche capire se ci si può permettere di indebitarsi e soprattutto di indebitarsi sulle cose corrette, tipo non contrarre un finanziamento per la spesa corrente, perché non esci vivo. E poi, gli investimenti, se riusciamo a fare dei piccoli salvadanai e vogliamo mettere da parte, investimenti che banalmente per un freelance può essere anche un'assicurazione sanitaria aggiuntiva, un'assicurazione in più per arrivare alla pensione. Cioè, cose proprio terra a terra. La prima cosa da fare, prima ancora di scaricarsi un'app per gestire queste cose, è quello di classificare, organizzare e domandarsi quali sono le spese legate alla mia attività e quanto, mangiano del mio budget, in modo da poter dividere i barattoli. Il primo barattolo, quello consistente, di cui abbiamo parlato anche ieri, è quello del fisco, dell'accantonamento per tasse e contributi. e quel barattolo è quello più grosso di tutti quando è un'attività improprio. E poi la cosa importante è dividere le spese in categorie, soprattutto perché serve in fase di consuntivo, per capire dove sto buttando i soldi, invece dove sto spendendo meno di quello che avrei dovuto, perché ho fatto dei budget e invece non l'ho consumati. proprio come se fossimo un'azienda, perché noi siamo un'azienda, cioè ognuno di noi siamo piccolissime aziende, ma dovremmo gestirci proprio con un'azienda, con una prima nota e dei consuntivi, anche se la legge non ci impone di farli, no? Non abbiamo bilanci da depositare, rendiconti finanziari, però per noi dovremmo farlo. Ma è semplice, la cosa più difficile secondo me è abituarsi ad avere una sorta di prima nota, cioè abituarsi a categorizzare tutte le spese, anche la marca da bollo da 2 euro che compriamo al tabaccaio, quindi anche il caffè la mattina al bar, dobbiamo imparare proprio, ed è lì ci vuole qualche mese per abituarsi proprio a piazzare nelle categorie, poi viene naturale la prima cosa che fai quando esci da un esercizio commerciale o quando chiudi un ordine online. E poi una volta che andiamo al consuntivo capire dove possiamo recuperare dei grussoletti, dei piccoli tesoretti da riallocare e ci sono, ve lo assicuro. Provateci, poi fra 2-3 mesi ci sentiamo e dite guarda ho recuperato 200 euro al mese perché quello si recupera anche quando le entrate sono minime. accantonamenti una volta cose diverse una sono i barattoli e poi ci sono i barattoli da riempire quindi abbiamo gli accantonamenti che sono tasse quanto spendiamo informazione stabilendolo magari in percentuale rispetto al nostro fatturato può essere un indicatore vogliamo aprire un ufficio vogliamo uscire di casa io lavoro in casa magari qualcuno non si trova bene vuole uscire di casa o prendere un co-working anche decidere in che modo prendere un co-working un carnet un abbonamento eccetera sono comunque piccoli investimenti attrezzatura un rinnovo del parco attrezzatura c'era lo zaino 2.0 se lo dobbiamo rifare tutto lo zaino ci vogliono dei soldi quindi dobbiamo organizzare queste cose qua e allora abbiamo delle app io ne ho selezionate nove sono un po' mescolate non fanno tutti le stesse cose sono cose diverse tra loro adesso ve ne parlo di alcune voglio precisare qui che due di queste le uso quotidianamente da utente da cliente con una di queste realtà lavoro da quando sono nati anzi da prima che nascessero però le ho volute inserire comunque perché le conosco proprio a mena dito e quindi mi sembrava carino potevo metterne altre ho cercato di fare una divisione tra fintech native fintech possibilmente native senza l'intervento di una banca quindi nate dall'idea di startupper oggi ci sono delle banche che incubano delle fintech al loro interno oppure le acquistano oppure le finanziano quindi come dicevo all'inizio lo scenario è quello della convergenza perché comunque le banche hanno la storia e la struttura e le fintech hanno l'idea la tecnologia l'innovazione poi abbiamo dei conti barra carte smart italiane straniere e poi i cruscotti i cruscotti sono ancora stranieri e siamo all'inizio perché adesso con la PSD2 di cui ho parlato all'inizio si svilupperanno nuove realtà o alcune di quelle sopra diventeranno cruscotti a loro volta è facile che accada sono delle cose che si aggiungono mano a mano oval money e satis pay sono un fiore all'occhiello del nostro paese sono completamente italiane satis pay è diffusissima immagino che qua siamo con una platea molto smart quindi immagino lo utilizzate più o meno tutti e rompiate le scatole ai negozianti di adottarlo cioè almeno io ogni volta vado e dico ma perché non usate satis pay perché puoi pagarci anche 50 centesimi e soprattutto fai un gesto che è fichissimo perché tu il telefono ce l'hai qui invece la carta devi aprire la borsa prendere la carta eccetera quindi è proprio una questione anche di praticità con oval e satis pay si possono fare quei barattoli di cui parlavo all'inizio oval ha addirittura un sistema di automazione del barattolo posso impostare delle automazioni per cui mi mette da parte gli arrotondamenti mi mette da parte il cashback il famoso cashback quindi quel pezzettino che ti restituisce il negoziante quando compri qualcosa quindi metti da parte gli spicciolini metti da parte e puoi rinominare i barattoli per i tuoi obiettivi che possono essere di business o personali ma qui stiamo parlando di business quindi non so il mio sogno appunto di avere una sede per finanziarlo cards l'ho inserito è un raccoglitore di carte di credito quindi è un po' più banale come situazione con satis pay possiamo anche fare la raccolta del conto al ristorante così non ci facciamo le solite figure barbine di chi paga cosa paga uno solo ma si fa pagare a tavola dagli altri poi ci sono i conti smart quindi abbiamo hype che è una carta conto quindi una prepagata che però ha un'app che però ha un IBAN che però ci puoi pagare i bonifici i bollettini puoi fare micro pagamenti peer to peer quindi puoi girare i soldi ad amici e parenti o colleghi quindi ci puoi fare una serie di cose Guidi beh invece proprio un conto e ha il cruscotto quindi ti dà la possibilità di vedere finanziamento indebitamento la situazione familiare quasi tutti ti consentono di categorizzare automaticamente le spese soprattutto se usi lo strumento di pagamento collegato alla carta conto vanno in automatico se tu vai a un bar ti dice bar ristoranti oppure intervieni tu manualmente a dare delle categorie su delle spese o le inserisci se fai delle spese in contanti è proprio una questione di abitudine ed è importante questa è la parte più importante ed è offline bisogna abituarsi a segnarsi le cose però con questi strumenti molte cose soprattutto se usiamo pagamenti elettronici vanno in automatico e non dobbiamo sbatterci cioè meno contante e via e poi abbiamo dei cruscotti Yolt è tedesco se non erro e no è di Engie olandese ed è un cruscotto che ti consente appunto di vedere tutta la tua situazione finanziaria su un unico su un unico prospetto quindi la sostanza è prima ancora di adottare questi strumenti a meno che non ne adottiate già qualcuno ma di adottarli in maniera proattiva quindi non per il semplice pagamento ma anche proprio per organizzare le finanze della vostra attività iniziate ad abituarvi a segnare tutto e comunque a categorizzare anche solo mentalmente le spese che sostenete anche perché la vita la nostra vita da freelance è sempre un mix tra vita privata e vita professionale è un travaso continuo su tutti i fronti quindi attribuire le spese gli investimenti all'attività e dedicare i risparmi all'attività è un esercizio molto importante io devo essere stata brevissima e vi ringrazio grazie Michela poi anche grazie a tutti